Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 agosto ovviamente, Ferragosto me lo ricordo bene. Insomma, il tema più divertente della giornata, perché il tema più politico, è quello del partito di Maio che si è fatto partito. La sintesi migliore probabilmente la fa il giornale di Sallusti, in cui dice che sostanzialmente il Movimento 5 Stelle è diventata una componente, una corrente del Partito Democratico. Ma andiamo invece sulle questioni che, come sapete, mi esaltano. Ciao Barbara, buon Ferragosto a te, anche Mirko che vedo che è arrivato a Ferragosto. Barbara, un'altra Barbara, quante barbare ci sono questa mattina? Insomma, un sacco di gente, Fabrizio, Manita, Chiarelli, buongiorno a te, così come Carlo Carraro, tanti auguri a tutti quanti voi. Però il punto fondamentale, ragazzi, è quello che io sto vedendo in Italia. Basta leggere i giornali stranieri, spagnoli, francesi, tedeschi, non li capisco bene, devo lavorare con Google Analytics, con Google Translate, poi ne parleremo di Google. Insomma, hanno un'idea di la malattia un pochino diversa rispetto a quella, non dei giornali italiani, del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha un'idea della malattia che è completamente diversa rispetto a quello che avviene in tutto quanto il mondo civile. Bisognerebbe fare toc toc, Cairo, ma che t'ha preso? Io penso che sia una roba che riguarda l'editore, perché scrivere quello che oggi ho letto sul Corriere della Sera è una cosa che non c'è nessun altro. Oggi ce l'ha il mattino, giornale, locale, che ha, diciamo, un suo senso. Buongiorno, Barbara Ridonni, anche Giordano, grande Giordano, spero che ti sia preso qualche giorno di vacanza. Il Corriere della Sera oggi titola, poi bisognerebbe spiegare ai venditori di Cairo che quando è morto tutto quanto l'economia, probabilmente il giornale ci si utilizzerà quei poche copie che riuscirà a vendere per pulirci il pesce. Mettiamola così. Si su i contagi, ma si balla. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Su i contagi, ma si balla. Quindi prima abbiamo trovato le vecchiette, poi abbiamo trovato i cani, poi abbiamo trovato i runner, poi abbiamo trovato... Adesso è chiaro che il problema sono le discoteche. In realtà poi sono un po', come possiamo dire, sono un po' combattuti se ce l'hanno con quei bastardi che vanno in discoteca o con quegli sfruttatori dei gestori della discoteca. Comunque la mettete e dicono una minchiata. E vi spiego perché dicono una minchiata. Non lo dico io, lo dicono il 99,9% degli scienziati, tranne quelli che evidentemente il Corriere della Sera ha in testa. E cioè, sentite bene, il Corriere della Sera di oggi, non il sito di informazione russa, non il sito di informazione della minchia cinese. Su i contagi, ma si balla. Diciamo che questo è un titolo editoriale, diciamo che il problema oggi è le discoteche. Poi vediamo l'occhiello, dice Impennata, nuovi malati, 574. Porca puttana, dico io, 574 nuovi malati? Beh, in fondo il Corriere della Sera è l'unico che ha questo dato stratosferico e riesco a capire tutto. Vado poi nel sommario, l'occhiello, quella robetta sotto, il titolone, il titolone sui contagi, ma si balla. L'occhiello dice Impennata, nuovi malati, 574. Poi vado a vedere il sommario, in prima pagina, sotto l'occhiello, sempre nel Corriere della Sera, e leggo Impennata, nuovi contagi, 574. Allora, vi faccio uno schemino perché sia semplice. Sullo stesso giornale, sulla stessa prima pagina, sugli stessi praticamente tre centimetri quadri, il Corriere della Sera dice che ci sono 574 nuovi malati e dice pure che ci sono 574 nuovi positivi, nuovi contagi. Bisognerebbe fare un elemento abbastanza semplice, farlo spiegare non da Zangrillo, che magari loro non si fidano, ma anche dai loro beniamini, dalla Capua, da, come si chiama quell'altro, da Ricciardi, forse ci arrivano anche loro. E cioè che il contagio non è un malato! Il contagio non è un malato! E poi c'è malato e malato! Tra l'altro, toc toc, ieri, quelle della sera, diceva che c'erano cinque ragazzi che erano sempre sull'idea del... Andate ad approfondirle e chiedo a tutti quanti i miei amici pugliesi, cerchiamo di fare non il crowdfunding, il crowd news, cioè mettiamoci d'accordo. Sul mio sito, più tardi forse riuscirò a parlarne e darvi documenti ufficiali, ieri dicevano che c'erano cinque malati ventenni. Bene, uno di questi cinque è effettivamente un ventenne e non è un malato grave, come dicevano loro. Gli altri quattro, nulla di male, eh, nulla di male, ma sono quattro che vengono dal centro, diciamo, di immigrazione clandestina, vengono portati dalla Sicilia in Puglia. A me va tutto bene, ma allora vorrei un titolo del Corriere della Sera, sempre che loro siano così preoccupati dalla malattia, non, com'è che si diceva, com'era il titolo di oggi, la minchiata di oggi, adesso ve la dico, eh, aspettate, su i contagi ma si balla, su i contagi ma arrivano dalla Tunisia! Questo oggi sarebbe il titolo del Corriere della Sera, ma ovviamente non si può fare questo titolo. Ma io chiedo, ma cosa vogliono? Ma perché devono mettere questa paura? E lì poi c'è Severnini, Severnini, discoteche gioiose, macchine di contagio! Ecco, l'hanno trovato l'uomo che con il suo birignao riesce a dirci dov'è il problema delle future generazioni. Le discoteche, macchine gioiose, macchine di contagio. Questo è il clima che oggi si respira su un giornale che io vi pregherei, un giornale che io leggevo come primo quotidiano, io vi prego che vi posso dire, leggetelo un po' dopo, dopo che avete letto le notizie sugli altri giornali, perché se leggete il Corriere della Sera voi dovete suicidarvi dal punto di vista, diciamo, spirituale, perché siamo una specie di peste bubonica portata prima dai giovani, poi dai cani, poi dai runner, poi, insomma, ne hanno trovata una al giorno, fin anco oggi devono arrivare a metterci sotto. Nel frattempo, vi ricordate tutto il casino sulle scuole? Poi, insomma, gli allarmi servono fino a un certo punto, perché poi quando gli allarmi vanno su, avete capito, quel posto del governo, allora non sono più allarmi e siccome noi abbiamo il distanziamento per tutto, dobbiamo chiudere le discoteche, c'è tutto il casino, i giovani fanno casino, siccome nelle scuole non saranno in grado di mettere il distanziamento di un metro e le scuole sono di questo governo, sono gestite dall'azzolina, sono roba pubblica, adesso improvvisamente scopriamo che nelle scuole, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, non è più necessario stare a un metro di distanza. No, spiegatemi la logica. Ci avete fatto due palle così sui giovani, avete chiuso le scuole, da marzo siamo l'unico paese che non le ha riaperte, abbiamo fatto un appalto di 3 miliardi che non siete riusciti a fare. Vi rendete conto che nelle scuole in realtà non si deve stare a un metro e ci rompete le palle perché tutto il resto del mondo invece stanno più assembrati. Quindi nelle scuole sarà possibile, ma fuori no. Vabbè, ragazzi, però siccome questa cosa riguarda il governo, il Corriere della Sera non ne parla. Quindi, come dice giustamente la verità, il Comitato Tecnico Scientifico salva l'azzolina se non c'è distanza, basta la mascherina. Perfetto. Ragazzini, andate in mascherina a scuola, avete risolto tutti i problemi. Nel frattempo, secondo me, il Cavaliere Berlusconi ha capito che non è più aria, che non se lo filano più, perché per un certo periodo, secondo me, hanno usato il tempo di ritornare a sto governo, di fare qualche no, qualche trustino. Perché in un'intervista oggi al giornale, che forse è la cosa più significativa di oggi, dice no, 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 niente governissimi. Che è una sfumatura molto diversa rispetto al Cavaliere dialogante delle ultime settimane, istituzionale, quello che piaceva alla sinistra. Trapprò lo riattaccheranno, è fuori di dubbio, ma tra un po' anche lui ritornerà governativo. Insomma, in questa specie di andirivieni del governo, nel quale Gervasoni sul giornale dice una cosa sacrosanta, e cioè ora che il partito di Di Maio è diventato una nuova corrente del Partito Democratico, questi del centrodestra si unissero un po' tutti quanti per fargli un mazzo così alla sinistra, senza fare i fenomeni a destra e a sinistra, dividendosi sulle regioni. Perché quello che sta avvenendo, e lo spiega bene il fatto, è che il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, oggi si mettono insieme. Ma sapete perché? Perché se perdono Marche e Puglia, sono cavoli loro. Se perdono Marche e Puglia succede un'ecatombe nelle regioni, e quindi dietro ecatombe neanche quel genio forlaniano, ma è un insulto a Forlani di Conte, potrà riuscire a rimanere al governo. Io non ci credo, non che perdano, io penso che perdano, ma non ci credo che anche se perdano Conte si dimetterà mai. Però, insomma, il tentativo della spallata sulle regionali c'è. Quindi, voglio dire, se la fanno sotto così, basta vedere il fatto che cosa dice e cosa scrive. Il Movimento 5 Stelle dice sì al PD, ieri lo decide sul Rousseau. Beh, vedete, poi ci sono due interviste che dicono di Di Maio, bene col partito democratico, lo dice alla stampa e al fatto quotidiano. Ma la cosa che mi fa impazzire è che questi dicono sì al secondo mandato e sì al partito i tradizionali e diciamo che... E poi, dall'altra parte, il Partito Democratico, come Orlando, intesa con il Movimento 5 Stelle in Puglia e Marche, appunto, per cercare di non perdere contro il centro-destra. Ma la cosa più divertente è quello che dice Vespa, in fondo, oggi sul quotidiano nazionale. Cioè, nasce un partito, oggi formalmente nasce un partito che fa esattamente come gli altri partiti. Si danno i loro stipendi, fra un po' decideranno di non ridare neanche dietro i soldi, peraltro non li stanno ridando indietro gran parte dei loro parlamentari, decidono di allearsi col PD, ma domani potrà essere anche con un altro partito, perché non è che il Rousseau diceva allearsi col PD, diceva vi volete alleare con un partito tradizionale? Eh beh, sì, se serve per vincere, sì. Volete fare il terzo mandato? Eh sì, perché così formiamo una classe dirigente. Esattamente quello che facevano i partiti prima, e loro li avevano distrutti. Il titolo più bello oggi, secondo me, è la foto di Grillo del riformista, quanto gli piace il tonno di quella scatoletta, titola giustamente oggi il riformista, perché vi ricordate il Parlamento dovevano aprirla come una scatoletta di tonto, e invece di aprirla come una scatoletta di tonto se sono magnato il tonno, anzi gli piace quel tonno, dice il riformista. È caduto il muro di Bibiano, invece titola il tempo, perché ve lo ricordate quando questi rompevano le scatole al Partito Democratico definendoli delle merde? Malagutti oggi, sulla stampa, in maniera colta, diciamo, raffinata, che cosa dice? Macchiavelli, in realtà, citando Macchiavelli prima dell'intervista che fanno a Di Maio, è ad un principe, dice Macchiavelli, non mancano mai ragioni legittime per venire meno alla parola data. Il principe, la parola data, non vi è fidata, e quindi è il Marchese del Grillo, però Macchiavelli lo diceva 500 anni prima, 300 rispetto al Marchese del Grillo, più o meno, e quindi al principe non mancano mai le regioni legittime per venire meno alla parola data. Noi siamo vittime del principe, del nuovo sovrano. Nel frattempo il nuovo sovrano incarna anche delle figure farsesche, come quelle del presidente dell'Inps, Tridico. Beh, insomma, quella di ieri, dell'audizione di Tridico alla Camera, è stata una buffonata! Ma una buffonata che ha il sapore del bagaglino, dice Francesco, dice Merlo, non Francesco, sul foglio, perché questo qua si presenta, non rinquadra, rinquadra solo il ciuffo. Ma anch'io so bene quanto è il casino di fare queste dirette Facebook, però forse magari uno che fa il presidente dell'Inps davanti alla più importante istituzione italiana, mettetevi d'accordo, fatela in diretta, riuscirete a farla, no? Ci avete costato un miliardo di euro all'anno, cazzo, riuscirete a far sì che il vostro presidente dell'Inps in una così delicata situazione parli. E Belpietro nota che dell'audizione inutile di Tridico ieri, e Tridico non ha detto la cosa fondamentale, come mai sono finiti fuori i nomi di questi parlamentari che avrebbero preso 100 euro? Perché? Qual è il motivo? Non me ne è fotto nulla della privacy, ma perché tra un milione di beneficiari, tra dieci milioni di persone che hanno, secondo Tridico, hanno beneficiato delle cose, perché sono riusciti a trovare cinque politici, che non hanno commesso nulla di illegale, ma hanno semplicemente abusato, diciamo, ma neanche abusato, non c'è un abuso, sono stati soltanto degli accattoni, mi viene da dire. Travaglio dice la scena è stata pornografica, addirittura, e la madonna, chissà che cos'è, abituato alla sua barchetta, probabilmente la pornografia di Travaglio, ha delle soglie molto alte, e il problema è che Tridico, dice leggermente il povero Tridico, secondo Travaglio, sarebbe stato intimidito dai disonorevoli e dal doppio gioco dell'autority, della privacy. Questo è Tridico. Beh, stupendo. Nel frattempo vi segnalo che, lo scrive oggi il messaggero, che vi ricordate quella sanatoria per le badanti, per gli immigrati, per l'agricoltura? Insomma, avete fatto un mazzo così alla Bellanova, perché tutta la destra diceva che schifo, che schifo, che schifo. La cosa è che l'Italia finisce sempre in farsa. Sapete perché non ci sono 600.000 persone che sono state beneficiate da questa sanatoria? Perché è troppo complicata! E se ne sono beneficiate soltanto 150.000. Nel frattempo vi segnalo l'incredibile intervista di Landini alla stampa. Il capo della CGL ha un'idea per risolvere i nostri problemi. Sapete qual è? Detassare gli aumenti sui nuovi contratti. Insomma, bisognerebbe fare un toc toc a Landini. Nuovi contratti. Ma allora forse non hai capito che sta succedendo nell'economia italiana. Qua non è area di nuovi contratti, purtroppo. È di chiudere quelli vecchi. Ma dove cazzo vive Landini? Quindi, aumenti oggi per nuovi contratti. Gli aumenti li vede forse sulla Luna, sui suoi sindacalisti. Nuovi contratti? Se l'hai sognati in qualche trip che non so quale possa essere stato. Nel frattempo Feltri è furibondo sul Libero, sul fatto della questione dei sei indagati del governo, compreso Conte per, diciamo, epidemia e per i suoi cambiamenti durante il periodo di lockdown. E dice, ma Feltri, ma questi giornali fanno venire il volto a stomaco, l'avremmo detto anche noi ieri, perché è possibile che nessuno di loro ieri abbia titolato giornali come Repubblica, come Il Corriere, come La Stampa, come i grandi giornali italiani, come l'avvenire, si siano messi a fare un pezzo sulla questione in prima pagina di quella di Conte. Zitti, tutti, muti, come se nulla fosse. Le ultime due notizie della giornata sono, anzi, tre notizie, in bocca al lupo a Farina, Farina giornalista che conosco bene, grande scrittore, perché scrive divinamente sul Libero, e si è beccato un brutto infarto. Ed è, racconta in una pagina di Libero, la sensazione di questo infarto, l'ospedale dove si è presentato, ma lo scrive in maniera così, è divinamente, come possiamo dire, partecipativo, il suo pezzo, che vi consiglio di leggere. È una bella pagina di lettura, un uomo che soffre, ma lo fa in maniera, diciamo, come si chiama, utile per noi. Il giornalista fino in fondo, è comunque in bocca al lupo veramente Renato Farina, che sta in ospedale in queste ore, mentre noi cerchiamo di goderci anche voi, il Ferragosto, e con lui tante persone che lavorano negli ospedali, fuori da questa specie di retorica della Covid, eccetera, degli eroi. Quindi stanno a lavorare, mentre noi stiamo qua a prendere il sole, si fa per dire. Quindi, grande Farina, e grandi coloro che l'hanno a Desio, all'ospedale di Desio, curato. E che altro vi volevo dire? Poi due notizie internazionali, secondo me, che sono stupende. Beh, la prima riguarda, vi ricordate quella finanziaria tedesca, che si chiama, adesso ve lo dico bene, Wirecard, che è saltata due miliardi in a Parmalat tedesca, cioè non ci sono soltanto a Callecchio i Casini, che è saltata inventandosi dei conti, diciamo, all'estero. Due miliardi saltata. Beh, il Wall Street Journal di oggi racconta come funzionari della loro Bafin, della loro Consob, abbiano investito un botto di soldi mentre si stava indagando su quella società, proprio su quella società, cioè facevano transazioni sulla società, sulla quale stavano indagando. Certo, autorizzate, trasparenti, quello che volete, però il Wall Street Journal, insomma, lo piazza in prima pagina. L'ultima grande storia di giornata, che invece sul Sole 24 Ore soltanto cita, è la battaglia tra Fortnite, avete presente il gioco, e Google e Apple. La situazione è molto semplice, Google e Apple sono i grandi giganti dei negozi software. Se tu vuoi andare in un negozio e comprarti Fortnite, devi passare per Google o per Apple. E Fortnite si è rotta le balle. Fortnite è quella che, quella società di gaming, vale 3.000 euro dollari al minuto di acquisti, fatti di giochi o di piccole add-on di Fortnite. Quindi è una specie di gallina dalle uova d'oro, solo che la puoi comprare solo attraverso Google e Apple. E allora Fortnite si è rotta le balle e ha detto ma perché devo lasciare 30% di commissione a Google ed Apple? Ed è uno scontro tra titani americani sul fatto che il gioco debba essere per forza canalizzato attraverso questi due negozi online e con una specie di grande duopolio che Fortnite vorrebbe rompere. Non so chi abbia ragione, non so chi abbia torto, però questa è la vera grande sfida del futuro economico. I monopoli non sono più nelle ferrovie, nell'acciaio, nei vecchi monopoli naturali, ma di chi li ha conquistati come Google ed Apple e come combattere con chi invece li vuole smontare. Direi che per oggi è tutto, vi faccio un buon ferragoso. Domani giornata di pausa, la zuppa non c'è, però probabilmente sul sito, anzi sono abbastanza certo che sul sito qualche novità vedete. Nicolaporro.it, ve l'ho segnalato, andate sulla mia pagina per approfondimenti, l'ho scritto qua. Nicolaporro.it ricordatevi che vi volete scaricare la pagina nicolaporro.it dove c'è tutti i giorni la rassegna stampa, scaricatevela direttamente sulla vostra desktop o sulla vostra pagina home del mobile, così spingete il tasto e andate direttamente sul mio sito. Ciao! Ciao!